Le quote intercomitari per gli sport, ovviamente c'è una ripartizione sulle tradizioni, se questo numero si abbassa, l'abbiamo già abbassato negli ultimi anni, però bisogna abbassarlo in modo maggiore per mettere le tradizioni in ripartizione, se adesso ne sono il numero è possibile, in ripartizione che in particolare gli sport di squadra e ovviamente quelli professionistici dovranno necessariamente abbassare il fatto degli effetti, a marzo ci sarà questa decisione. Ho sentito una cosa nei giorni scorsi, la vendetta è un piatto che si guista a freddo, qua nessuno si vendita di nessuno. No, assolutamente no, ci mancherebbe, assolutamente no. Mi sembra che anche, penso che, come ho detto i colleghi, il massimo rispetto, come il doveroso che sia, nel senso del dovere perché questo è illegale, penso che si è fatto una cosa giusta, bella, secondo me anche la scelta delle persone, l'istituità con il passato, ma anche di persone di grande credibilità e di curriculum, penso che sia una cosa che non crede, non è un tomorrow, gli stessi, come dire, rappresentanti del corso ci aspettavano e penso che speriamo. Grazie a voi ragazzi. Grazie a voi ragazzi. Grazie a tutti.